Buongiorno, buona lunedì 4 marzo, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Udinews TV. Cominciamo insieme la giornata come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo, leggendo insieme i giornali con tutte le informazioni utili per affrontare al meglio questo lunedì. Intanto diamo uno sguardo alle webcam che ci arrivano dalle nostre montagne, la giornata si è aperta in maniera migliore rispetto a Udine dove c'è una gran nebbia, invece qui siamo a Sappada dove il cielo è limpido e la giornata è appena cominciata, invece a Udine la situazione è un po' differente, c'è tanta nebbia anche nella provincia, soprattutto verso la bassa, probabilmente con poi il sorgere del sole la situazione andrà migliorando, però prima di cominciare con la lettura dei giornali diamo uno sguardo alle previsioni del tempo insieme all'onora nocent. Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di lunedì 4 marzo. Al mattino probabilmente poco nuvoloso, poi peggioramento con piogge e neve in montagna oltre i 1000-1200 metri circa, possibili temporali e le precipitazioni saranno più abbondanti sulle zone orientali. Le temperature. Sulla costa 5-8 gradi di minima, 10-13 di massima. In pianura 1-6 gradi di minima, 9-12 di massima. A 1000 metri 2 gradi e a 2000 metri meno 2 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Queste allora le previsioni con le onora nocent, poi alle ore 8 circa ci collegheremo con l'Osmerarpa anche per sapere come saranno le prossime giornate. Adesso diamo uno sguardo alla situazione in autostrada, in A4, in A23. Non ci sono problemi di traffico al momento, è tutto scorrevole nonostante i vari restringimenti. Mi raccomando, attenzione per la nebbia che come vedete è presente sia nella zona di Gorizia e Savogna di Zonzo in particolare, ma anche nel tratto Veneto, come potete vedere dalle immagini verso Pordenone, verso Treviso, ci sono banchi di nebbia e quindi bisogna prestare massima attenzione alla situazione. Ovviamente nella bassa è sempre peggiore la situazione per quel che riguarda la nebbia. Adesso andiamo a leggere le prime pagine di e quest'oggi con la politica e le primarie in primo piano, ma anche con la vittoria della Juve, i danni del Napoli, un ulteriore allungo per la squadra di Allegri e nella seconda parte quella sportiva. Invece torneremo sulla vittoria dell'Udinese in casa e anche sulle voci dei protagonisti che abbiamo raccolto ieri sera. Cominciamo intanto con il Corriere della Sera che apre così, primarie PD, la vittoria di Zingaretti. Il neo segretario è verso il 70% dei voti, sarò leader e non un capo, no alla cultura dell'odio. Gentiloni invece sarà il candidato alla presidenza del partito. Code ai gazebo, 1.800.000 persone in fila, si chiude l'era di Renzi. Così dice il Corriere. Sarò leader non capo, dice Zingaretti, che è il nuovo segretario del PD. Esce vincitore dalle primarie che hanno registrato un'affluenza inaspettata secondo anche gli stessi organizzatori delle PD e adesso prenderà in mano il partito, il ritratto di Tommaso Labate, lui il fratello e i duelli evitati. Un'altra riflessione è quella di Aldo Cazzullo che dice l'uscita dal Limbo, il principale partito di opposizione è uscito dal Limbo in cui si era rinchiuso da oltre due anni, dal 4 dicembre 2016 ed è una buona notizia, non tanto per il partito quanto per il paese e tutto sommato anche per il governo perché in democrazia c'è bisogno di opposizione. Beppe Sala dopo la manifestazione di Milano dice dobbiamo essere esempio, credo che il vento nazionale cambierà davvero se altre realtà faranno quello che sta facendo Milano, un Milano che ha visto sfilare l'altro giorno 200.000 persone alla rassegna per la manifestazione chiamata People, prima le persone. Poi ancora sull'asse Italia-Francia si continua a parlare di TAV, Macron da Fazio con l'Italia oltre i malintesi, TAV da ultimare, il presidente è stato ospite su Rai 1 e auspica di andare oltre i malintesi e spinge ovviamente sulla realizzazione della TAV a maggio l'incontro con il presidente Mattarella. E qui vedete questo scatto di centropagina, una coppia di genitori sono stati travolti da un'auto e sono morti, sono rimasti feriti i figli, arrestato uno straniero con precedenti per droga, la coppia uccisa da un ubriaco, nell'auto si salvano solamente i figli, madre e padre sono morti, due figli 8 e 10 anni sono in gravi condizioni all'ospedale e non sanno ancora di aver perso i genitori. La tragedia è accaduta a Porto Recanati l'altra notte, un marocchino ubriaco al volante fuggiva da un primo incidente, ha travolto l'auto della famiglia che era sul suo percorso. Il mistero Orlandi porta una tomba dentro il Vaticano, l'articolo di Fiorenza Sarzanini che continua a seguire il caso di Emanuela Orlandi, la famiglia chiede nuovi controlli, una tomba antica nel cimitero teutonico dentro le mura vaticane, conduce lì l'ultimo mistero collegato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Alcune segnalazioni ipotizzano possa custodire i resti della giovane scomparsa nel 1983. Questa è la prima pagina del Corriere che in alto parla anche della Juve che vince a Napoli, insigne, sbaglia, un rigore in chiusura di partita che avrebbe consegnato il pareggio al Napoli, bene Atalanta e Torino. Guardiamo anche come la Repubblica parla delle primarie e il PD ritrova la sua gente, Zingaretti è il nuovo leader, 1.800.000 persone hanno votato, il segretario dice convincerò i delusi. Qui la foto di esultanza per la vittoria, 69% la percentuale per Zingaretti, 19% per Martina, Giacchetti è 12%. Renzi dice sono pronto al dialogo, aspetto segnali dal nuovo leader, dice Renzi che però deve fronteggiarsi con un elettorato che vuole ovviamente andare oltre la sua ingombrante figura. L'opposizione ora c'è e Milano fa il bis, questi gli approfondimenti della Repubblica, due popoli, un tesoro da non sprecare, l'editoriale di Ezio Mauro. Un taglio più basso invece, crisi e liste d'attesa, 4 milioni italiani non si curano più il dossier che guarda le persone per le quali la sanità è un peso economico a volte insormontabile. Poi il filosofo che ci ha insegnato a pensare, il ritratto di Tullio Gregory che sommava tutti i caratteri della sua opera di studioso e sempre in alto, il Napoli lotta ma l'impresa non riesce, la Juve vince, vola più 16, lo scudetto è in tasca. Il Sole 24 ore parla di un'Italia senza medici, senza infermieri e professori, la grande fuga, questa è l'apertura di quest'oggi, ricambi difficili a fronte di 52 mila uscite in 7 anni, nel 2025 mancheranno all'appello 16 mila e 500 specialisti, 54 mila infermieri vacanti possono ora superare i 90 mila e per la scuola ci sono anche problemi, da settembre serviranno 140 mila supplenti per colmare le uscite di docenti già programmate e quelle di quota 100, oltre ai bocchi d'organico esistenti. Poi c'è la corsa al reddito in 4 test verità, mercoledì il debutto, attenzione ai fattori chiave tra stipendio, separazione e reddito della famiglia. Il 6 marzo è la data da cui si potrà presentare le domande. Addio forse ai bamboccioni, fuori casa ma sempre a carico dice il Sole 24 ore. Poi parte la tassa flat sui negozi, troppi vincoli sui contratti, la norma sulla cedolare, limite in modo significativo l'ambito di applicazione. In taglio più basso invece c'è un cantiere italiano per una blockchain più utile e sicura. Dove va la blockchain italiana? Questa è la prima del Sole 24 ore. Passiamo adesso a vedere che cosa dicono il giornale è libero, anche sulle primarie del PD. Libero dice così, il PD muore ma occupa la RAI, il popolo dem in coda per eleggere segretario Zingaretti, l'uomo che porterà il partito indietro di vent'anni. Nel paese sono minoranza però in TV gli eredi di Renzi la fanno ancora da padroni. L'informazione politica della RAI si divide in due categorie, da una parte i telegiornali su cui tutti si accapigliano, dice il Libero, il giornale. Eppure da quando sono cambiati i direttori in materia per litigare ce n'è poca. Poi invece vediamo a centropagina Fabrizio Lecca Macron, gli italiani pagano, scusate Fazio, imbarazzante spot all'uomo che ci odia e si parla appunto dell'ospitata di Fazio, da Fazio di Macron. Miracolo di Benettono, suscita 84 anni, i grandi imprenditori sono pieni di risorse. Ezio Greggio sulla polemica col direttore, striscia ma feltri, con lui è tutto risolto. Il direttore ovviamente è il direttore di Libero. Vediamo anche il giornale, il PD a Zingaretti tornano i dinosauri, questo è il commento. Vittoria scontata, così l'apparato archivi all'era Renzi, alle primarie, 1.700.000 votanti. Il giorno della riscossa del PD, in 24 ore, il Partito Democratico si risveglia dal lungo coma post elezioni, scopre di essere ancora vivo con un segretario legittimato con il 60% dei consensi. Ma è un risveglio che già profuma di Amarcord, il ritorno dei padri nobili tra Romano Prodi, Roberto Benigni e Nanni Moretti ai gazebo. Partono le manovre all'avvicinamento della vecchia ditta Bersani e dei D'Alema e i dirigenti della La Vincente celebrano la voglia di Sinistra. Invece i grillini sarebbero dalle mani bucate. Spesopoli 5 Stelle, dalla benzina della Lezia al telefono della Taverna, parte il reddito via libera anche ai truffatori. Berlusconi, sempre dalla pagina del giornale, dice che il governo cadrà anche se Salvini non vuole il cavaliere in Basilicata. Macron fa pace con l'Italia, intervistato da Fazio. La TAV però va completata, così ha detto il Presidente. Anche Zingaretti in una delle sue prime dichiarazioni ha detto uscirò, in una delle mie prime uscite pubbliche come segretario del PD sarà per vedere il cantiere della TAV. Primarie si rivede il popolo PD, Zingaretti cancella i Renziani, gazebo affolato in tutta Italia per scegliere il nuovo segretario. Buona affluenza e consensi personali che inconnano il governatore del Lazio. Non sarà mai capo ma leader di una comunità, dice Zingaretti. Poi invece in taglio più alto, sì di liberi e uguali al reddito però finanziamolo con la patrimoniale. Migranti, la mappa dello scaricabarile tra i paesi europei. Inchiesta di Mediapart sulla non accoglienza, si legge. Poi in centro pagina invece il clima è impazzito. Venezia addio tra 80 anni, in mezzo Italia sarà sommersa. Il mercato delle valutazioni invece io ho pagato dai venditori per recensire Amazon. Il gruppo Vine riceve prodotti gratis per fare le recensioni sul colosso dell'e-commerce. Un ex membro mostra le mail dei negozianti online, fammi una valutazione buona e ti ricarico la Paypal. Sistemi di vendita online sempre più vittime di queste situazioni. Vediamo anche la stampa. Le primarie boom rilanciano il PD, si legge al voto nelle piazze quasi 2 milioni, il 70% vota Zingaretti. I delusi stanno ritornando a casa, dice. L'opposizione viene ritrovata nei gazebo. Nella foto di centro pagina si parla dell'1-2 micidiale. La Juve passa a Napoli e vede lo scudetto. Toro Show, tre gol al Chievo per l'Europa. In taglio più basso invece un'inchiesta che racconta dei bambini italiani più poveri e disagiati per due famiglie su tre. La sfiducia è cronica. Guardiamo anche il gazzettino e poi ci spostiamo sui quotidiani locali. L'ora di Zingaretti si legge alle primarie 1 milione 800 mila elettori. Il vincitore sfiora il 70% dei voti. Il segretario del cambiamento. Poi vediamo anche le notizie che arrivano da Venezia durante il carnevale. Dopo le critiche di centinaio il sindaco dice parla senza sapere, mi chiami. Sul ticket Brugnaro attacca il ministro. Forse quelle parole il sindaco se le teneva lì da un po' se le è presa con il ministro. Venezia poi durante il carnevale è stata teatro anche di un rendezvous erotico sotto il ponte. Sono stati ripresi questi due 36 anni veneti e denunciati per atti osceni. hanno avuto un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava a pochi passi dal frequentatissimo piazzale Roma. Tutto è accaduto l'altra sera, notte fonda, come testimonia il video che da diverso tempo gira su molti cellulari. Vediamo anche la pagina del nord-est. Si parla proprio del sindaco. Brugnaro attacca il ministro. Centinaio critica il contributo ma parla senza sapere. mi chiami e gli spiegherò perché dobbiamo difendere Venezia. Il titolare del turismo aveva definito il provvedimento inutile e dannoso. La replica dice io rispondo ai veneziani. Il ticket di ingresso è una delle misure sempre più adottate in giro per il mondo, non solo a Venezia per tutelare le città antiche. Andiamo a vedere i quotidiani locali con la pagina del Friuli. Tagliamdi, salasso da 66 milioni, tanto vale il mercato di revisioni e pre-revisioni in Friuli Venezia Giulia. La provincia che nel 2018 ha speso di più è quella di Udine. Sina dice dal meccanico si va, anche se c'è la crisi, quasi il 44% dei veicoli ha più di 10 anni. La revisione delle auto vale molto, 66 milioni spesi nel 2018 e su questo adempimento di legge non si registrano cali. Così dice il presidente regionale del comparto auto. le revisioni si continuano a fare nonostante la crisi. Il pagamento della tariffa fissata per le revisioni, per complessivi 21 milioni, il costo delle pre-revisioni sono altri 44 milioni. E Udine è la provincia che spende di più. Chiuso un marketing invece in Borgostazione, controlli a raffica di carabinieri e nas che hanno blindato l'altro giorno un intero quantiere, datteri infestati dai parassiti, confezioni di riso prive della tracciabilità, generi alimentari sequestrati in Borgo Stazione. Poi qui vediamo anche la strategia dell'enogastronomia e turismo, un tavolo per fare squadra tra Promo Turismo, Ersa e circa 30 realtà regionali operanti nel comparto enogastronomico del Friuli. Nel taglio laterale Wolf si allarga, si chiude in positivo il bilancio dell'azienda di Sauris e la Lega Coop, settore servizi, Gasparutti va al timone. Andiamo a vedere anche il taglio più alto, si parla di Sappada, ancora tanti rebus sulle regole, chi perfeziona le pratiche cominciate prima del dicembre 2017, che fine fanno i beni regionali sul territorio comunale. Per gli spettacoli, prove aperte per il palio teatrale studetesco e tanti appuntamenti in primavera anche per i concerti della Mitteleuropa Orchestra. In foto centrale l'abbraccio fra gli argentini de Paul e Pussetto che sancisce la vittoria dell'Udinese, ritrovata a sette punti sulla B. L'Udinese ha battuto il 2-1 per 2-1 il Bologna e grazie al successo ottenuto nello scontro diretto per la salvezza è riuscita a mettere sette punti tra sé e l'ultimo posto della zona rossa del campionato. Decisiva la rete di un indiavolato Pussetto, pace fatta tra tifosi e società. E qui vediamo anche il primo torneo delle Linci, domenica 31 marzo ci saranno 700 mini-regbisti, una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Il Polisportivo si prepara per una pacifica invasione, questa è la prima del Gazzettino. Andiamo a vedere la prima del messaggero in apertura, picchiata perché è straniera. A Pordenone aggredite una tailandese, cittadina italiana, un uomo l'ha insultata, ha ragione Salvini, devi tornare a casa tua e poi la schiaffeggia. Vivo in Italia da 40 anni, una cosa del genere non mi era mai capitata, non intendo lasciarla passare, dice la donna, corporatura minuta, è nata in Thailandia ed è cittadina italiana dalla fine degli anni 80, in seguito a un matrimonio con un italiano. Ha dovuto superare i 60 anni per vedersi aggredire prima verbalmente e poi fisicamente da un italiano. E poi vediamo le altre notizie che riguardano Udine, i carabinieri trovano parassiti nei cibi, chiuso un negozio cinese, boschi abbattuti dal maltempo, il legname resti in carni, a SOS alla regione, poi si parla anche di via Mercato Vecchio, pronta per il Natale, non ci saranno né auto né bus, così dice il sindaco Fontanini. E per l'uso del telefonino al volante c'è la tolleranza zero, cioè non c'è tolleranza, ritirate già 2000 patenti. Poi vediamo anche in taglio più alto, Pussetto Show, vittoria che vale doppio, adesso il Bologna è a meno 7, qui vediamo l'abbraccio dei tifosi proprio ai giocatori. Grazie Nacio, il nuovo idolo della curva. Poi vediamo anche le primarie dei democratici, Zingaretti stravince anche in Friuli Venezia Giulia, la corsa per la segreteria l'ha visto trionfare anche qua. E Mal, il gallese, ha scelto il Friuli, ha festeggiato 75 anni a tempo di musica e vive appunto nel Pordenonese, il cantante. Vediamo anche le altre pagine di quest'oggi, telefonino al volante, oltre 2000 multe, subito via la patente. Dalla Polizia Stradale la proposta di ritiro del documento, la prima violazione. Sanzioni e controlli in aumento ma non basta, sono necessarie norme più efficaci. Il vicequestore della Polstrada dice quei 10 secondi per inviare un messaggio possono diventare fatali. distrarsi costituisce un pericolo, la guida è un'azione complessa che richiede tutta la nostra attenzione. Si possono utilizzare solo i vivavoce e gli auricolari per effettuare e ricevere le chiamate, altrimenti non si può rispondere al telefono. E qui vediamo anche i numeri delle sanzioni. Nel 2018-1098 sanzioni, nel 2017-978. Per quel che riguarda Udine, 567 in autostrada e 228 in lungostrade ordinarie. Ancora il messaggero con la vittoria di Zingaretti per le primarie delle PD, primarie che commenteremo a breve con i nostri collegamenti live, insieme a Davide Zanirato, folla e gazebo per cambiare le PD, Zingaretti stravince, è lui il segretario. La linea è questa, con una crisi di governo siamo subito pronti a elezioni anticipate. Una dedica alle donne, ai poveri, alla ragazza svedese che lotta per il clima e alle imprese vessate. Due settimane fa l'incontro al Colle col presidente Mattarella, è il garante della democrazia. Tanti cittadini e tanti big a votare, tutti in fila e Calenda è stato anche scrutatore, molti si sono riscoperti volontari e hanno dato una mano. Renzi, una vittoria bella e netta, ora basta con il fuoco amico. L'ex presidente del Consiglio si complimenta con i tre sfidanti, una festa della democrazia, i nemici sono al governo. Così dice, ha detto Renzi. Poi le parole di Macron, ospite da Fazio, con gli italiani andiamo oltre l'ostacolo, travolti e uccisi mentre tornano in auto dalla festa di Carnevale, successo a Porto Recanati. Ma ancora più triste è quello che è successo nella nostra regione, a Pordenone, dove una donna è stata aggredita, una donna di una certa età. Dopo una discussione in un bar, lui ha gridato a ragione Salvini ed è stata schiaffeggiata. Lei, italiana da 30 anni, è stata medicata in ospedale. I fatti risalgono a sabato sera, sono avvenuti nel quartiere di Borgomeduna, a Pordenone. La donna ha raccontato di aver fatto la spesa e poi di essere andata a bere un aperitivo al bar alle 20. I titolari sono miei amici. Alcune persone che conosco mi hanno invitato a sedermi con loro. Si è iniziato a parlare di politica e lo sconosciuto mi ha provocato. Se ti rivolgi a me impara a parlare prima in italiano, poi l'ha aggredita verbalmente e alla fine è passato alle mani. Poi vediamo anche la pagina relativa a Udine. Si parla ancora del centro storico di Via Mercato Vecchio, pronta a Natale. Sarà senza auto e senza bus con i gazebi fissi. Il sindaco Fontanini spiega il progetto. Entro metà mese sarà preso in esame dalla giunta. 210 i giorni di lavoro. La soprintendenza ha provato il disegno con una corsia in porfido al centro. Questo è un'anticipazione su quello che succederà. E poi ancora, manca il gonfalone di Udine alla cerimonia dei partigiani. È polemica. È stato uno sgarbo istituzionale molto grave. Sono stati ricordati i componenti dei gap fucilati nel 1945. Blitz dei carabinieri. Negozio cinese chiuso per sporcizie e parassiti nel cibo. Identificate 400 persone sequestrate in volo. Cri anche con Ashish. Molti gli uomini impegnati nel servizio straordinario. Di cui tra l'altro vi avevamo raccontato in diretta già sabato all'interno del nostro notiziario. Ma diamo uno sguardo invece a tutto quello che è successo ieri per quel che riguarda i fatti di cronaca con i nostri flash. I controlli straordinari dei carabinieri di Udine, dei NAS e del nucleo ispettorato del lavoro hanno portato a sequestro di datteri e confezioni di riso invasi da parassiti e privi di tracciabilità in un negozio di alimentari in borgo stazione a Udine. Le numerose carenze igienico-strutturali riscontrate hanno portato all'immediata emissione da parte dell'azienda sanitaria del provvedimento di sospensione dell'attività stimata del valore di 150.000 euro. Nell'ambito dei controlli straordinari, nei posti di controllo disposti sulle principali strade della provincia sono state complessivamente identificate oltre 400 persone di cui un centinaio di stranieri sono state controllate oltre 100 vetture e spezionati 16 esercizi pubblici. Sempre in borgo stazione, le unità cinofili hanno permesso di trovare per strada all'esterno di un bar e a bordo di un bus due involucri contenenti 14 grammi di hashish. Tre vigili del fuoco, liberi dal servizio, arrivati a cima a Valinis stamattina verso le 11.15 hanno assistito alla caduta di un parapendio di un'altezza di 7-8 metri. Immediatamente hanno dato l'allarma alla centrale del NUE, prestando le prime cure al ferito. I tre hanno poi aiutato i sanitari a spinalizzare e a trasportare l'infortunato presenti sul posto anche i carabinieri di Maniago. La squadra mobile della polizia di Gorizia ha arrestato il trentenne sloveno Cristian Gorkiz, autore di una rapina commessa nel settembre 2014 in Corso Italia a Gorizia. Viaggiando in sella a motorino Ciao di colore rosa, l'uomo si era avvicinato a una donna che stava passeggiando con il marito a bordo strada e le aveva strappato la collana d'oro. La vittima era caduta a terra, riportando escoriazioni al volto. La polizia l'aveva peraltro arrestato più volte anche in passato, ma ora il trentenne dovrà scontare una pena definitiva di 4 anni. Ritorniamo allora con la provincia, cominciamo da Tolmezzo. C'è l'accordo nel centro-destra d'Orlando, candidata sindaco. La coalizione ha deciso, è la prima donna che aspira alla carica di primo cittadino. Si deve recuperare la centralità del capitale della Carmi e pensare alla sanità. avvocato, presidente dell'azienda per i servizi alla persona di Villa Santini e la prima donna candidata alla carica di sindaco di Tolmezzo. Poi vediamo anche le notizie che arrivano da Tarvisio. Bilancio all'esame del Consiglio, le tasse non aumenteranno, mentre a Pontebba, Palaghiaccio, rimesso a nuovo. Ora c'è anche l'area fitness. Si parla anche del legname che deve restare in Carnia. La regione aiuti le segherie. Legno Servizi chiede di bloccare il trasferimento in Austria. Il materiale va stoccato e lavorato in un paio di anni. Intanto l'università studia come far rinascere i boschi distrutti. Ancora la provincia con le cicogne di Fagagna. Ieri sono state liberate davanti ai 3.000 curiosi. C'era appunto la cerimonia del primo volo delle cicogne. Liberati sei esemplari che hanno raggiunto la maturità dopo tre anni in voliera. Hanno spiegato le ali anche 12 curati dal centro recupero fauna. E poi nel Cividalese si torna a parlare delle malessere che ha colpito gli alunni. L'azienda sanitaria sentirà le famiglie di chi frequenta la mensa al convinto. L'ipotesi di disturbi da virus dopo uno spettacolo che si è tenuto al teatro Ristori. Poi a Pozzuolo. Bianchi e razzisti. La partita finisce in baruffa. Alta tensione durante l'incontro tra una squadra locale e l'Udile Keep Fit. Il mister dei Ganesi ha colpito con una testata il guardaline avversario ed è stato espulso. Intervenuti anche i carabinieri al termine della gara molto movimentata questo a Pozzuolo. Andiamo a vedere ancora il messaggero andando sulle pagine di Gorizia. Parco del Castello. Oggi parte il restyling. Sentieri ripuliti e una nuova area giochi. Lavori finanziati con 200 mila euro a una ditta pordenonese. Diventerà uno spazio di aggregazione per famiglie. E poi infine la pagina di Pordenone. Mense scolastiche salutari in Italia. Pordenone è soltanto 34esima. Secondo il comitato scientifico la qualità del cibo servito ai bambini è solamente sufficiente. A proposito di cibo presente nelle mense scolastiche. Adesso ci fermiamo con la rassegna di cronaco. Con la piccola pausa pubblicitaria poi ritorniamo con lo sport e i nostri collegamenti in diretta.